Pallavolo Duccio Ripassarti è il nuovo direttore sportivo del settore femminile della Trentino Volley. Il manager dopo 7 anni in A1 con Firenze allestirà la rosa per la prossima stagione nella serie cadetta. Sentiamo i suoi obiettivi. Per questa prima stagione sicuramente riappassionare il territorio trentino alla pallavolo femminile cercando di fare una pallavolo divertente con una scuola di ragazze giovani. Nel medio e lungo termine è quello di riorganizzare un pochino il settore femminile dargli la stessa valenza del maschile e perché no nel tempo raggiungere di nuovo l'A1 quello vedremo, il campo poi è sempre quello che dà la risposta.